Onorevoli colleghi, non vorrei chiamarla commemorazione perché mai come della perdita di un collega siamo stati così uniti come se la sua morte ci migliorasse nel sentire ciò che unisce i nostri pensieri e non ciò che li divide. La sua morte ha fatto come non era mai capitato io in quest'aula avendo una certa età ho commemorato Franco Marini, Rossana Rossanda, Emanuele Macaluso, Mellini, tutte persone con cui ho avuto un'amicizia stretta e molte idee condivise. Con Epifani avevo in comune la considerazione molto alta della bellezza che salva il mondo se noi siamo in grado di salvare lei difendendo l'Italia, la sua dimensione di paesaggio che rischia di essere disperso e perduto. Ricordo il 17 marzo del 2018 con l'amico Speranza, io raccontavo Michelangelo al teatro olimpico, la passione, la verità del suo sguardo attento alle immagini, ai racconti che io venivo facendo e come è capitato in numerose occasioni la sua vigile presenza e il suo desiderio. Da non molti colleghi ho sentito chiedere, verrò a vedere la mostra, verrò da te, lui a Sutri, lui a Ferrara, lui... e veniva con una curiosità autentica di chi sente la cultura come una natura profonda. E per questo, al di là dei colleghi perduti che ci hanno insegnato molto, come Rossana Rossanda, da Epifani veniva qualcosa che va al di là dell'ideologia e riguardava l'umanità, quello che ci accomuna, quello che ci unisce, quello che ci migliora. Abbiamo sentito qualche collega piangere, commuoversi. Prima l'amico Speranza mi ha chiamato, dopo le tante polemiche che abbiamo avuto, perché è più forte la sua vita in quei fiori che non erano stati in nessun banco per altri colleghi. È come se non potessimo accettare che egli se ne sia andato. E proprio perché, nell'andarsene, nell'andare non in un luogo che io credo ci aspetti, forse non ci aspetta niente, però ciò che rimane di noi è la memoria che lasciamo. E per questo ho pensato che forse era giusto dedicargli, in ordine al valore della poesia, i versi di Gheoma Poliner della Casa dei Morti, quella in cui sicuramente sta, che qualcuno può pensare sia la casa dell'altra vita. E dice qualcosa che riguarda più noi che ci siamo, che lui. Perché nulla può innalzarci di più dell'avere amato un morto o una morta. Si diventa così puri da giungere nei ghiacciai della memoria a confondersi col ricordo. Se ne resta fortificati per la vita e non si ha più bisogno di nessuno. Questo io penso che il dolore che io ho provato a vedere non più i suoi occhi, la sua intelligenza in quel banco, ha in realtà dato alla mia vita maggiore senso. Devo dato tasto, prego. Grazie Presidente. Beh, io a dire la verità, ascoltando... Grazie. Grazie.